ciao e benvenuti in questo nuovo video nel video di oggi faremo un altro unboxing ne seguirà poi un altro fra qualche giorno e poi per un lungo periodo di tempo credo non ci saranno più prodotti da unboxare cosa unboxeremo oggi dei ricambi e un aerografo intro prima di andare avanti con il video vi faccio presente una cosa quello che unboxerò oggi l'ho preso tutto da tony tony è un signore che aveva un laboratorio e dispone di moltissimi ricambi per diversi brand di aerografi vi lascio sia nella descrizione del video sia qua a video l'email di tony per poterlo contattare e lui praticamente ha ricambi per ami junior pash olympos ideal spitfire zephyr devil bis fisher badger fb più raccordi ricambi per compressori se avete bisogno di ricambi per aerografi diciamo fra virgolette vintage o difficili da trovare molto probabilmente da tony riuscirete ad averlo gli mandato un email lui è molto gentile disponibile vi risponde molto rapidamente e poi vi dirà lui cosa a disposizione cosa non nel frattempo inizio ad aprire e vediamo dove ci porta questo unboxing anche perché i ricambi come avrete ben capito a me mi garba non rimanere a spasso con i ricambi e averli disponibili anche perché se mi si rompe qualcosina non non voglio rimanere a spasso con gli aerografi quindi lista dei ricambi che questa non ci serve ok questi li controllo ugualmente perché una volta durante un unboxing stavo per buttare via roba che serviva allora anche a sto giro abbiamo la camera qua di sopra vi faccio vedere un pochino cos'è arrivato questi sono i puntali non si sa mai si otturano si rompono si rovinano con questi ho il ricambio questa è una rotellina di ricambio quella che praticamente si va a ruotare qua sono tutti ricambini particolari che non è semplice da trovare o perlomeno visto che in america si trovano però fra spese di spedizione dogana una roba un'altra iniziano a diventare costi importanti questa è la rotellina completa questi sono i pezzettini della valvola con le guarnizioni io spero voi riusciate a vederli lo so che è pietosa la la camera lì sopra come registrazione cioè praticamente guarnizione il pistoncino il dadino le molle della valvola questi sono i fermi e le guarnizioni in ptfe e la guarnizione centrale praticamente dove passa l'ago questo è un cappellotto di ricambio misura 2 questo è un cappellotto di ricambio misura 1 le molle quella dello spingiago il fermago e i tasti centrali cioè il tasto del per azionare l'aerografo poi qua abbiamo io mi raccomando qualunque cosa vi serve mandategli un'email scrivetegli perché è una persona molto preparata molto gentile molto disponibile e ora qua abbiamo un altro pezzo forte un patch vjr questo ragazzi è storia insieme al v e al cioè questo è il v questo è il v v questa è storia e questo non vedo l'ora di metterlo in funzione e di vedere un attimino come come va scusate la silenziosità ma ne resto veramente ammaliato perché questo l'ho cercato molto più del pasc v in quanto questo è uno anche questo come il pasc v è un aerografo che è ampliamente utilizzato da della gente che che ammiro tantissimo ma tanto 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 e lo vedrete perché farò sia la recensione dettagliata del v e del vv del vjr e parleremo anche delle varie differenze tra il vjr e il v parleremo del ci sarà da parlarne su questi aerografi poi specie con il prossimo unboxing ci saranno un bel po di novità qua sul canale youtube ragazzaccio io sono senza parole ora io stacco mi metto a provare questo sono senza parole proprio senza parole è fantastico e pensavo di non riuscire mai a trovarlo scusate se mi sto impappinando ma io vi rilascio vi ricordo che sotto in descrizione trovate la mail per contattare toni per i ricambi qualunque cosa avete bisogno contattatelo io chiudo il video ne devo registrare altri fra oggi e domani altri sei di video e per ora mi fermo un attimino perché ho molta curiosità di provarlo finalmente dopo tipo due anni e mezzo che cercavo quest'aerografo qua ragazzacci i commenti sono lì se mi volete chiedere qualcosa fate pure se io appena posso leggo e vi rispondo mi sono impappinato dall'emozione vi chiedo ancora scusa se il video vi è garbato lasciato un like se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale attivate la campanella così vi arrivano le notifiche quando pubblico un nuovo video quando vado in live e almeno resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video ciao ciao